Assessore, che cosa risponde a Biagioli, che tra l'altro chiede anche le sue dimissioni? Allora, a Biagioli rispondo semplicemente che nessuno ha tolto qualcosa a qualcuno. Questo è stato semplicemente il frutto di una lunga mediazione che ho fatto sia con il gestore dell'impianto della palestra di Cucurano, ma anche con tutte le società che interagivano all'interno, che erano due. Una è il calcetto del Cucurano e l'altra invece il calcio femminile. Per le quali, grazie a una mediazione che ho fatto con il Circolo Tennis e anche con la società ETA Beta, siamo riusciti ad includere, cercando di modulare anche la tariffa, perché era questo il problema. Naturalmente, chi non è contento di andare anche in una palestra nuova, dove proprio si ritrovano tutte le stesse attività e discipline. Partendo proprio a ritroso, voglio ricostruire un fatto che è determinante. Io sono assessora allo sport e come tale devo poter favorire tutte le società sportive all'interno. Nel momento in cui una società del trampolino elastico, che tra l'altro all'interno della stessa federazione della ginnastica ritmica che oggi lavora dentro questo impianto, si candida nella città per poter lavorarci, una società, ripeto, del trampolino che oggi ha campionati a livello nazionale e mira anche a fare qualcosa a livello internazionale. Io non posso essere indifferente. È 40 anni che questa società ci chiede spazi e non glieli diamo. Per cui, arrivare a una mediazione, ho cercato di mettermi in movimento per dare una risposta. Io penso che questo sia il mio dovere, sia il dovere proprio di un'amministrazione seria che vuol bene alla città. Poi comprendo che naturalmente le dichiarazioni di Biagioli sono dichiarazioni anche personali perché c'è un legame personale, ci hanno investito dei soldi, ma come lui tante altre società sportive. Perché oggi di fatto lo sport nella nostra città riesce a sostenersi perché veramente ognuno, ogni gestore mette il cuore oltre l'ostacolo, ci investe del proprio. E quindi non è una cosa straordinaria rispetto a altre cose che si fanno. È stata mia premura trovare una soluzione per collocare tutte quelle che sono le attività all'interno, tanto che non abbiamo lasciato piedi nessuno, ci tendo a ribadirlo, per cui le dimissioni di solito portano fortuna, le colgo così. Invece sulle altre segnalazioni, dette da Biagioli, ne era conoscenza? No, segnalazioni di degrado, né cancello né del parco retrostante, non ne sapevo ma mi adopero da subito.